Grande successo quest'anno per il vaccino anti-influenzale, tanto che non si riesce a trovarlo. Medici internisti in fila per fare il vaccino contro l'influenza durante il loro congresso. Noi medici internisti della Fadoia abbiamo deciso di vaccinarci contro l'influenza. Questo ci consentirà di assistere in sicurezza i nostri pazienti e ci eviterà anche il fastidio di prenderci la malattia. Quest'anno la vaccinazione anti-influenzale sta funzionando, tanto che in diverse regioni i medici di famiglia hanno esaurito le scorte di vaccini da somministrare gratuitamente alle persone che ne hanno diritto. Ecco fatto, in un secondo senza dolore e così non corro il rischio di prendere l'influenza. Quest'anno la campagna vaccinale contro l'influenza sta avendo un grande successo. Molti cittadini chiedono di potersi vaccinare e le scorte non sono sufficienti. La regione dovrà fornirci altre scorte a più presto, ma questo è molto importante perché il vaccino consente di prevenire la malattia e di evitare soprattutto le sue complicanze. Ed è necessario vaccinarsi proprio in queste settimane di dicembre, perché già adesso 150.000 persone si sono ammalate nell'ultima settimana. Il picco si prevede proprio nel periodo di Capodanno, quando i malati con complicanze affolleranno il pronto soccorso degli ospedali. L'invito alla vaccinazione per me, medico internista, è un obbligo nei confronti del paziente. Debbo renderlo consapevole del fatto che con la vaccinazione riesce ad evitare l'influenza e le sue complicanze che possono essere molto gravi.